yamaha rischia di perdere morbidelli è una novità no la storia di zarko e si ripete ora è un film già visto quello di cui abbiamo già assaggiato il trailer in realtà anche i titoli di testa e parte del inizio delle prime scene perché è un film già visto yamaha che ha più piloti che moto buone da dar via e rischia di perdere il suo miglior talento ossia franco morbidelli per seguire il desiderio di brand e di ritorni immediati che vuol dire valentino rossi ma anche quartaro insomma marketing politica invece che risorse umane una storia che abbiamo già visto attenzione un po più edulcorata addirittura di così in tante aziende tradizionali ma qui è in una situazione eclatante abbiamo visto in squadre di calcio in tante situazioni allora non è una novità dall'ultima situazione analoga sono passati quattro anni nel 2017 si si trattava di jean zarko è il primo ad aver vinto due mondiali in moto 2 di seguito ma due mondiali moto 2 in generale quindi mai successo fu parcheggiato in tech 3 e momentaneamente dissero in attesa di mandarlo sulle moto quelle blu non è mai successo allora zarko a momenti vinse la prima gara ma cadde con una roba un po interessante cioè non sbaglio non sbaglio più e tutto il resto del campionato se lo fece quasi tutto davanti finì sesto che per una rookie e tanta roba e fece delle top five fece dei podi e a momenti vinceva le ma che è la gara di casa quindi voglio dire posto assicurato il team ufficiale no jama appunto su vignales ci stava e si tenne rossi e già qualcuno storceva la bocca in realtà rossi è anche accusato di aver messo il veto su zarko yama ufficiale poco conta in realtà secondo me non so se così ha avuto vignales forse vignales era più mite no in quanto quando era in suzuki lo aiutò lo scortò dicono insomma però non è importante il resto è il fatto che rossi aveva fatto tipo 35 punti 34 37 punti in più di zarko ragioni di marketing e zarko volo via poi è chiaro zarko ha fatto una scelta di andare su una moto ufficiale andò malissimo si chiamava ktm a momenti zarko lo lanciano nell'iperspazio e gli tolgono anche lo sponsor red bull insomma perché ktm e red bull sono la stessa cosa sono un'esperienza disastrosa comunicata male fatta male con una moto che non lo convinceva eccetera insomma rimane a piedi insomma alla fine a momenti smette con la carriera poi va bene lo recuperano in ducati e le cose si raddrizzano insomma cosa ha imparato yama da una roba come questa qua niente sembra sta sacrificando per il terzo anno di tre anni non un anno come zarko franco morbidelli che è uno che ha battuto tutti i suoi compagni di squadra ma a calci incluso il suo maestro e che a momenti porta a casa un mondiale di moto gp per sbaglio su una moto veramente privata cioè qual è il premio per franco morbidelli per aver fatto un campionato così ve lo dico io l'unica moto privata che yama ha messo in pista cioè il contrario di come sarebbe dovuto andare a ivata hanno promosso tutti quartaroro l'ha messo nel team ufficiale dopo che l'anno prima si era pagato la roba così sua vignales l'hanno eletto caposquadra rossi l'hanno salvato perché in realtà sarebbe stato da no salutare ma l'hanno messo in petronas con trattamento da ufficiale quindi è andata male per franco in realtà qualcuno dice che sarebbe dovuto andare lui al posto di quartaroro in teoria yama ali ha deciso troppo presto ma resta il fatto che alla fine franco non ha non ha avuto niente quindi ancora una volta soldi e marketing invece di capitale umano quindi un quarantenne finito quindicesimo 41 n invece di uno giovane che a momenti vinceva il mondiale a chi diamo la moto ufficiale al 40 quindi per morbidelli non c'è una moto dell'anno scorso non c'è una moto no c'è una moto addirittura di due anni fa che lo taglia fuori da qualsiasi tipo di comunicazione all'interno del team cioè non esiste la possibilità di scambiarsi i dati con una moto così poi fa anche una figuraccia nella gara 1 in catar dove di catar 1 dove viene mandato in giro a vagabondare con un problema tecnico all'all shot già prima della gara insomma niente punti cosa fa franco si lamenta si incazza poi però torna indietro sui suoi passi poi si scusa protesta però poi dice che non importa la realtà è che ha dentro casa sua i due responsabili del suo stop di carriera professionale che rischia di essere anche un treno perso non indifferente il suo capo all'academy che è colui che gli firma gli assegni del merchandise del contratto che li gestisce quello che l'ha portato lì e che ha in pugno la sua carriera e che gli dice valentino voglio fare così tu mi stai bloccando e hai media cosa dice quando mai una tv in partnership con un'azienda come vr46 evidenzierà un problema di questo tipo del fatto che il padre putativo sta stoppando il proprio figlioccio sportivo mai in realtà è questa è una colpa diciamo così molto grave perché materialmente cioè ideologicamente no dal punto di vista del meccanismo dipende un po da valentino però la colpa di yamaha che dorme perché in realtà è yamaha che ha in mano il bandolo della matassa quindi il futuro di morbidelli dipende dalla volontà di yamaha di ripetere o meno o meno gli eroi del passato fatti con zarco con la differenza che diversamente dal caso zarco qui è stato sfiorato un titolo e diversamente dal caso zarco qui sono passati già tre anni quindi franco se vuole non è zarco franco può andare dove vuole teoricamente può andare in aprile lo prendono lo vanno a prendere con la macchina suzuki se ci dovesse essere no una un posto come anche con il team satellite può andare quando vuole ktm non ne parliamo neanche oppure yamaha che è il posto suo naturale laddove però qualcuno decidesse di farsi da parte per favorire finalmente il suo protetto cioè il concetto di protetto è veramente surreale se pensiamo che al momento il blocco di carriera di franco morbidelli dipende proprio da chi dice di averlo lanciato di volerlo lanciare di volerlo aiutare cioè è brutto così da dire però di fatto se togli vignales che ha la moto ufficiale perché la merita è quartaro perché giovane francese tutto il resto chi ha rubato la moto ufficiale a morbidelli la verità cioè vedendo i dati i numeri i ritorni le classifiche i piazzamenti degli ultimi anni chi chi è al posto di morbidelli sulla moto ufficiale che dovrebbe avere morbidelli colui del quale morbidelli è il protetto figuriamoci se non era protetto come andava a finire dopo di che ragazzi pensate da come volete è eterno niente però questi sono dati numerici non ci sono altre pugnette che vi saluta plinski che è un pazzo che mi hanno regalato col fulmine in panza vorrei tagliare questi manici di pistola che sono diventate le mie basette dove il pistola potrei anche essere io ciao da mister è iscrivetevi al canale che è una roba che ho scoperto che fa molto infastidire gli eter senza una vita ciao